Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale LORI ASMR. Allora, oggi ho pensato di portarvi un video all bar show and tell dei miei ultimi acquisti con i soldi. Allora, ho approfittato del fatto che ci sono i soldi in questo periodo per fare questo video, perché tanto io compro tutto l'anno. No, comunque allora, le cose che vi faccio vedere non sono... non le ho acquistate tutte in una volta. Ok, questo magione fa tanti rumolini. Non le ho acquistate tutte in una volta, ma nelle ultime settimane, diciamo, le ho acquistate una dopo l'altra. E... niente, tutte comunque in salto. E due online da ASOS e due da Zara. Comunque adesso vi faccio vedere. Io in realtà ho già aperto e usato tutto, però... Comunque, visto che ho pensato che comunque ho comprato qualche cosina nuova, ho detto, vabbè dai, facciamo vedere. Allora, la prima borsina è questa qua di Zara. Fa un grande suono, quindi cerco di non farlo troppo forte. Fa un grande suono, quindi cerco di non farlo troppo forte. Allora, il primo questo che vi voglio far vedere è subito l'errore. Quando vuoi comprare delle cose, c'è sempre quella cosa che prendi, però poi quando arrivi a casa dici... Potevo non prenderla. Questi sono i pantaloni. Il mio errore. Allora, sono di questo verde molto bello. E sono tipo in tessuto rigido, tipo quel tessuto solito per i pantaloni, diciamo, più eleganti. Infatti questi qua dovrebbero essere tipo pantaloni eleganti, però in una versione che piace di più a me perché sono leggermente l'archifesto, non polare. Diciamo che in negozio mi erano piaciuti molto perché comunque sono un bel colore e io di pantaloni eleganti non ne ho. Cioè, ne ho magari un paio proprio. Quindi sotto ci sto magari per quelle occasioni un po' più formali, li posso usare. Però in realtà, cioè, ovviamente li userò, però li ho pagati 20 euro, quindi tornando indietro magari non li riprenderei. Anche perché poi riprovandoli ho visto che la forma non è proprio come piace a me. Adesso ve li faccio vedere indossati. Quindi, mettendolo a parte l'errore, passiamo agli acquisti belli. Allora. Sempre da Zara ho preso questi qua, che sono pantaloni belli, belli, belli. Allora, i pantaloni che piacciono a me sono di un tessuto rigido. Però questi non sono di un tessuto rigido, sono morbido, però mi piacciono lo stesso. E mi piacciono i pantaloni comunque larghi. E larghi come questi non ne ho, e sono bellissimi. Poi, io magari quelli che ho tipo sono di un colore slavato, oppure tipo neri. Invece questi sono proprio colore classico jeans. Visti da così non rendono assolutamente. In realtà sono pelli larghi. E sono anche un po' a vita alta. Questi li ho pagati 14 euro. Hanno anche tipo questo pagatino qui a lato. Questa cucitura qui, che mi piace. Allora, non so se le clip dove vi faccio vedere le cose indossate le metterò, oppure no. Perché non so se si vede bene, se si capisce, se sono utili. Quindi magari non le metto in posto. Comunque, passerei ai prossimi acquisti. Questi li ho presi online da Asos. Allora, questi li ho già aperti, usati eccetera, però per rendere il video magari più carino e fare anche più suoni, li ho rimbacchettati. Allora, lascia. Allora. 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 Ok, allora, questi sono altri pantaloni che ho acquistato da Asos. Però sono di Collusion, una marca che in realtà io non conoscevo ma l'ho trovato lì su Asos. Anche se magari non si vede. Sono della solita forma che piacciono, cioè un pochino la Haki. Allora, sono diventato gianno, sono tornato a rumore. Comunque sono un pochino larghi e questi li ho presi per il colore che hanno, che tipo è tutto slavato, acido, non so neanche come dire, quindi mi piace. Allora. 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 Adesso magari ve li faccio vedere indossati, forse sì, forse no. Allora. 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 vi ho fatto vedere i pantaloni quelli di Collusion e allora ragazzi in questo video non so quando metterò le clip. Comunque. Voi fate finta di niente. Allora. Allora. L'ultimo questo è questa camicia. Allora. Allora. Finalmente sono finiti i pantaloni. È bellissimo ragazzi. Mi piace troppo di un blu elettrico che, non so, mi casa e c'è tipo tutta la frutta dei disegni strani. Bello. Fatta così. È abbastanza particolare. È abbastanza particolare perché ha un motivo comunque particolare. È un colore un po' arrogante. Però mi piace molto. E poi costava pochissimo. L'ho pagata tipo 10 euro. Io tipo un anno fa 10 euro per me era già troppo. Cioè quando dovevo comprare i vestiti spendevo massimo 5 euro. Cioè proprio quando c'era in saldi cioè non mi compravo mai niente in realtà perché usavo la roba vecchia di mio fratello. Però da quando ho scoperto ASUS comunque lì trovo delle cose molto nel mio stile diciamo. E quindi mi fa piacere ogni tanto viziarmi un po'. It's a good idea. Vi saluto 4 euro. E quindi qui lui? Che racconto? TroSQL. È il mio profondo. Un momento. È il mio profondo. È il mio profondo. È il mio profondo. È il mio profondo. Ok, ve la faccio vedere indossata. Ok, allora ormai finisco di registrare con questa. Comunque indossata veste così. Veste un pochino largo, infatti mi piace come tutte le altre cose che uso io. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e a me è piaciuto farlo. Poi qualcuno mi aveva detto che comunque i video all piacevano e quindi ho detto facciamolo. Quindi poi io da quel che ho capito vi piace la mia voce, cioè vi piacciono i video parlati, quindi ne ho approfittato. E niente, per oggi il video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate nei miei acquisti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.